Allora, torniamo a noi sulle nostre cose un po' meno di scala mondiale, ma purtroppo la triennale va finita prima di partire per la magistrale. Allora, nell'oretta che ci rimane vi racconto l'ultimo argomento che ci è rimasto in sospeso sui grafi, la settimana scorsa ho detto lo rimandiamo per iniziare il tema delle simulazioni, che è quello dei cicli. Noi sappiamo già cos'è un ciclo, abbiamo definito, appena abbiamo parlato di grafo, cioè essenzialmente un cammino chiuso, un cammino in cui il primo vertice e l'ultimo vertice sono coincidenti, quindi non ci sarebbe nulla di particolare riguardo ai cicli in più rispetto ai cammini, tranne il fatto che ci sono alcuni cicli che possono essere interessanti perché hanno certe proprietà. Ad esempio, cicli che usino tutti, che tocchino tutti i vertici di un grafo e di solito parliamo di cicli semplici, quindi tocchino tutti i vertici del grafo una sola volta, quindi non passando due volte dallo stesso punto. E questi prendono il nome di cicli hamiltoniani, un ciclo, qui ci sono alcuni esempi cicli hamiltoniani su grafi completi di piccola dimensione. Allora, su un grafo completo non è un grosso problema trovare un ciclo hamiltoniano perché io da ogni vertice posso andare quando voglio ogni altro vertice. E quindi qualunque sequenza di vertici di fatto è... non sono tutti completi questi grafi, alcuni no. Su un grafo completo non sarebbe un problema creare un ciclo hamiltoniano perché se io da ogni punto posso andare in ogni altro punto, qualunque ordine scelga per i vertici di fatto sono collegati. Il problema, quindi il problema di trovare i cicli hamiltoniani si trova in due casi, o quando il grafo non è completamente connesso e quindi mancano dei collegamenti, quindi devo usare quelli che ho in modo oculato, oppure anche quando il grafo fosse completamente connesso, se il grafo fosse pesato. Allora a questo punto è vero che l'arco esiste, ma scegliere un arco piuttosto che un altro può darmi un peso totale diverso. A volte si parla anche di cammino hamiltoniano, cioè un ciclo aperto, un ciclo in cui non torno al punto di partenza. È meno interessante perché spesso il problema del ciclo hamiltoniano è un problema, come ho detto, anche del commesso viaggiatore, cioè devo toccare un certo insieme di destinazioni e poi ovviamente devo tornare al punto di partenza per poter, diciamo così, ricaricare la merce che ho scaricato durante il giorno. Un altro tipo di ciclo particolare è un ciclo euleriano, il duale del hamiltoniano, in cui si richiede di attraversare tutti gli archi di un grafo o di un multigrafo. Ovviamente se devo passare da tutti gli archi sarà abbastanza normale che dallo stesso vertice ci debba ripassare più volte, perché ovviamente siamo un vertice con quattro archi, la prima volta entro dal primo, esco dal secondo, e poi per usare gli altri due archi, il terzo e il quarto, dovremo ripassare da quel vertice lì. Quindi il cammino sicuramente non sarà un cammino semplice, il ciclo quindi non sarà anch'esso un ciclo semplice, però devo coprire essenzialmente tutti i vertici. E questo, se vogliamo, il problema del ciclo euleriano è stato il primo problema storicamente sui grafi, perché è quello da cui, diciamo così, è nata, è stata, diciamo così, formulata la teoria dei grafi, parlando dei ponti di questa città, Croninberg, in cui si diceva voglio fare una passeggiata in cui passo da tutti i ponti della città, erano sette se non sbaglio, una sola volta per ciascuno. Il che equivale a chiedersi se esiste un cammino euleriano, meglio ancora se fosse un ciclo euleriano, il problema non lo richiedeva all'inizio, di tornare al punto di partenza, su questo tipo di grafo, dove praticamente i vertici, in questo caso, erano le parti di terraferma, quindi le due isole centrali e le due sponde del fiume, 1, 2, 3, 4, e gli archi rappresentavano i ponti da attraversare. Ok? Allora, la cosa carina, vabbè, poi ci sono ovviamente le varianti sul problema, sul grafo pesato o sul grafo non pesato, se il grafo non è pesato, diciamo che il problema si tratta essenzialmente di trovare se esiste un ciclo euleriano o miltoniano all'interno del grafo. Se esiste, per definizione sono tutti uguali, se non ho i pesi, perché visto che il ciclo a miltoniano tocca tutti i vertici, la lunghezza sarà esattamente uguale al numero di vertici. Quindi, se il grafo non è pesato, i cicli hamiltoniani, se esistono, sono tutti equivalenti tra di loro, perché non ho un modo di preferirne uno rispetto all'altro, non avendo dei pesi. Invece, se avessi un grafo pesato, è importante che esista, ma è importante anche che scelga quello di peso minimo, solitamente. A volte, o meglio, spesso, devo dire, su un grafo pesato, il grafo tende ad essere, quando dobbiamo ricercare dei grafi dei cammini hamiltoniani, su grafi pesati, spesso il grafo tende ad essere molto denso, per la natura del problema, sono problemi di trasporto, quindi io, in realtà, da una città posso andare in qualunque altra città, anche se allungasse il viaggio, anche se non ho nulla che me lo impedisca. Magari non è una città che devo, tra virgolette, toccare, però è comunque un percorso che posso fare. Ovviamente, magari, quel percorso mi porta fuori strada, quindi costa di più. Quindi, tendenzialmente, quando io ho un grafo pesato, molto spesso mi trovo un grafo che ha una forte densità, ha un numero molto elevato di connessioni, il che, ovviamente, mi complica, mi semplifica il fatto di trovare almeno un cammino. Trovo in una strada, sì, di strada, te ne trovo tante, perché di archi ne ho abizzeffe, quindi riesco facilmente ad andare nei vertici che voglio. Riesco a evitare di trovarmi in un vertice da cui non riesco più a uscire, perché tutti i suoi adiacenti non sono già stati visitati. Se ho tanti archi, probabilmente andrò in un posto più lontano e poi riparto. Però, avendo molti archi, ovviamente, il numero di possibilità di esplorare è anche molto ampio. Allora, la sorpresa che salta fuori è che due problemi che sembrano simili, toccare tutti gli archi e toccare tutti i vertici, dal punto di vista algoritmico sono totalmente diversi. Allora, partiamo dai cicli ulleriani, cioè toccare tutti gli archi. C'è un algoritmo semplicissimo che ci permette di trovare un grafo euleriano se esiste e dirci, invece nel caso in cui non esista, dircelo molto semplicemente. C'è una condizione sufficiente per l'eulerianità, diciamo così, del grafo. L'idea qual è di questo algoritmo? Quindi l'obiettivo è che parto da un punto e voglio attraversare tutti gli archi del grafo cercando di tornare al punto di partenza. Allora, questo mi dice C'è una condizione, scusami, ma non l'avevo scritta qua nell'esame, non sono accorto adesso. Questo algoritmo funziona se il numero, il grado di tutti i vertici è uguale a 2, scusate, è il numero pari, quindi 2, 4, 6, 8. Quindi facciamo l'ipotesi di avere tutti i vertici con grado pari. Allora, in questo caso si usa questo algoritmo. Tra un attimo vediamo che in realtà diventa non solamente una condizione facilitante, ma una condizione necessaria. Si usa questo algoritmo, si dice prendi un qualunque vertice di partenza, il tuo punto di partenza, e vai. Vai dove vuoi. Segui una serie di archi che partono da quel vertice a piacere, ovviamente non passando mai due volte dallo stesso arco, quindi osperando ogni volta archi nuovi, quindi vado in altri vertici. Cosa può capitare? Beh, che io giro, giro e mi trovo su altri vertici futuri. Posso sempre continuare? Sì, posso sempre continuare perché ogni volta che io entro in un vertice, abbiamo detto che l'ipotesi è che il grado dei vertici fosse sempre pari. Quindi supponiamo il numero più piccolo, due vertici, due archi. Quindi vuol dire che se io sono entrato in un vertice da un arco, lui ne aveva due, e quindi di sicuro ce n'è ancora uno libero da cui posso uscire. Cioè non rischio di rimanere bloccato in un vertice da cui non riesco più a uscire. E quando passo da un vertice consumo due archi. Quindi se inizialmente avevo un numero di archi pari, io entro ed esco e ne consumo due, il numero di archi disponibili è ancora pari. E quindi questo ragionamento lo si può ripetere. Quindi praticamente io posso sempre viaggiare su questo grafo e sono sicuro di non rimanere mai bloccato. Con un'eccezione. C'è un punto in cui potrei rimanere bloccato, che è il vertice di partenza. Perché di quel vertice ho consumato un arco, lui ne aveva un numero pari, perché aveva grado pari, supponiamo che ne ho messe due, vuol dire che rimane un arco solo. Io se entrassi da quell'arco di nuovo nel vertice di partenza, non potrei più uscire. Poi lo vediamo nei disegni. Allora, questo mi dice che se io ho un grafo i cui gradi dei vertici sono tutti pari, partendo da un vertice qualunque, e viaggiando a caso, evitando ovviamente di riusare archi già usati, prima o poi mi ritrovo al punto di partenza. Non è detto che abbia toccato tutti gli archi, però. Ho fatto un ciclo chiuso, in cui ho usato una sola volta degli archi, non è detto che li abbia usati tutti, tutti quelli che sono nel grafo. E allora, dato, però ho già trovato un ciclo, allora quello che faccio è se, poiché sono tornato, ho fatto un ciclo, e sto dicendo, ma il ciclo non è detto che tocchi tutti gli archi, allora devo trovare almeno un arco che non ho toccato. Scelgo un vertice di questo ciclo, che contenga almeno un arco che non è stato toccato, e riparto da lì a fare un secondo ciclo. Vale ovviamente, immaginiamo di cancellare dal grafo tutti gli archi che avevo già usato, e quindi vale esattamente al stesso riscorso di prima. Quindi partirò da un vertice qualunque che ha almeno un arco libero, e lì farò un altro giro, chiudo degli archi nuovi, e torno ovviamente nel punto di partenza, nel vertice di partenza. Quindi in questo modo ho due cicli, il primo l'ho trovato nel mio vertice di partenza, il secondo l'ho trovato a partire da uno dei vertici che avevo toccato, ma di cui non avevo usato lì tutti gli archi. E quindi ho due cicli tangenti in certo senso, allora io semplicemente faccio un'operazione di slegarli. Se anziché faccio un ciclo in un punto, l'ho finito, poi rifaccio un ciclo dall'altra parte, formando un otto, io li separo, e li considero come un ciclo unico. E quindi ho, sono passato ad avere un ciclo che tocca un certo numero di archi. Caso A li ha toccati tutti, allora ho finito, ho trovato il ciclo eurriano. Caso B non li ha toccati tutti, allora c'è nemmeno uno da cui posso partire e ripetere l'operazione. Questo è un esempio di applicazione. Pensiamo di avere questo grafo qua e partire da un vertice di partenza. Allora, posso avere un vertice di partenza E, ad esempio. Allora, io parto, vado a caso, potrei partire in qualunque direzione, sono andato in G, G va in H, H va in J, no, da H potrei fare varie scelte, tranne quella che torna in G, ovviamente, vado invece in J, e in J sono obbligato a tornare in E. Sono andato avanti un po' e a un certo punto mi sono trovato in E. Quando mi sono trovato nel nostro vertice di partenza, mi fermo. Ho costruito un primo ciclo che comprende quattro archi. Poi, su questo ciclo, scelgo un vertice che abbia almeno un arco libero. In questo caso, è stato scelto il vertice H, e partiamo da H, da H vado a C, da C vado a D, da D torno ad H. Allora, queste scelte sono scelte stupide. No? Ti dici, ma sì, ma potevi già che C e ripassare da A e B. Ma non mi interessa. Ok? Tanto l'algoritmo funziona comunque. Se non ho dei pesi che mi guidino sul fatto che un arco sia preferibile dell'altro, ma tanto gli devo prendere tutti gli archi, quindi non c'è problema. Prima o poi gli dovrò prendere tutti gli archi. non importa in che ordine. Quindi io, vedete che ho due, avevo creato un ciclo che iniziava e finiva in E e un ciclo che inizia e finisce in H. Ecco, io adesso posso di fatto innestare presso il ciclo che inizia e finisce in E, che era questo qua, E, G, H, I, J. Scusate, E, G, H, J, E. E al posto di H, poi ho fatto un altro ciclo che parte da H, lo innesto, quindi come se aprissi questa sequenza e dove c'era H gli infilo la descrizione del ciclo piccolo. H, C, D, H. H, D, anzi, D, C, H. Quindi il ciclo di partenza che era E, G, J, E, su questo innesto il ciclo H, D, C, H e ottengo un nuovo ciclo più lungo, E, G, H, D, C, H, J, E. Quindi visto così è un ciclo unico che fa così E, G, H, D, C, H, J, E. È un ciclo non semplice. Passo due volte dallo stesso vertice ma sono obbligato a farlo. E a questo punto ripeto. Ripeto partendo magari da D. Allora da D potrei andare verso B o verso E, ma ad esempio faccio B, se faccio B sono obbligato ad andare in A, da A sono obbligato ad andare in C, da C sono obbligato ad andare in E e da E ad esempio posso tornare in D oppure andare in F oppure andare in E. Supponiamo di tornare in D ottenendo questo secondo cammino che congiungo al precedente iniettandolo, quindi questo è un cammino che inizia e finisce in D e quindi lo inietterò al posto di D. Quindi quest'altro cammino lo apro in D e G, H poi ci copio tutto questo sotto D, B, A, C e D e poi ricomincerà con C, H, J, E che è questa cosa qui. E ripeto, assolutamente prima c'è la figura di destra, poi ripeto, questa volta partendo posso partire o da E o da H perché devo partire perché devo partire da un vertice che appartenga già alla parte di ciclo che ho trovato e che quindi non è F e non è I e che ovviamente abbia ancora degli archi liberi quindi sono solamente E ed H in questa situazione. Quindi posso fare H, I, E, F, H oppure la stessa cosa partendo da E oppure a questo punto rimane obbligato, no? E quindi completo questo ciclo eriano. Allora, ho colorato tutti gli archi ma non è importante che li abbia colorati il fatto che esista un percorso attraverso cui si possano toccare tutti senza mai sollevare la penna dal foglio si diceva una volta. Quindi questa è una operazione semplice da fare tra l'altro se notate ogni arco viene usato una volta sola viene considerato una volta sola. quindi la complessità di questa cosa preso un po' a spanne è lineare nel numero di archi non ne ho mai prendo, provo lo riprovo lo tolgo no nel cercare abbiamo detto vado alla cieca nel cercare un cammino tanto poi o continuo ad andare avanti bene bene perché sto mangiando archi nuovi oppure mi trovo al punto di partenza e allora da lì riparto di nuovo da un altro punto a caso. quindi ha un algoritmo che ha complessità lineare nel numero di archi che tende ad essere quadratica nel numero di vertici ovviamente ma sempre con complessità polinomiale quindi un algoritmo molto semplice da implementare se ero convinto di avere una slide ma direi che ah è qua è questa scusate era scritto qua questo funziona ed è una condizione necessaria e sufficiente se tutti i vertici hanno grado pari se c'è qualche vertice con grado dispari anche solo un vertice con grado dispari e questo era il caso di questa città in cui c'era questo vertice che aveva un grado pari a 3 quest'altro che aveva un grado pari a 3 quest'altro che aveva un grado pari a 3 e questo che aveva un grado pari a 5 quindi massima sfiga erano tutti dispari ovviamente qui non funzionerà mai quell'algoritmo e me ne accorgo perché se provo ad applicarlo parto da qui penso vado in alto vado in basso vado qui e torno al punto di partenza va bene quindi questi primi 4 archi se li ricordiamo 1 2 3 4 li ho usati a questo punto l'algoritmo direbbe parti da un altro punto parto da qui ad esempio perché ho ancora gli archi liberi e quindi da qui cosa potrei fare? potrei andare qui e poi sotto ma non riesco più di andare avanti sono rimasto bloccato qua sotto perché questi due archi sono già usati e non riesco più a proseguire per poter prendere l'altro arco che mi mancava quindi se ho dei vertici di grado dispari non è detto che riesco a ritornare al punto di partenza e quindi puoi completare il ciclo quello che può capitare è che se mi interessano dei percorsi aperti quindi non sono obbligato a tornare al punto di partenza iniziale potrei avere un grafo in cui ci siano al massimo due vertici con peso dispari con grado dispari quello di partenza e quello di arrivo di cui uso solo un arco uno o il numero dispari tutti gli altri devono avere grado pari se vogliamo trovare questi cicli quindi questo è il teorema di Euler essenzialmente dimostrato a suo tempo che è quello che ci abilita essenzialmente un algoritmo molto semplice come questo se invece consideriamo quindi è un problema che quasi non si pone o il grafo è Euleriano e quindi ha tutti i gradi pari o non è Euleriano e quindi lo trovo in un tempo lineare questo cammino oppure il grafo non è Euleriano perché ha dei vertici di grado dispari e quindi non si può trovare appunto è inutile cercarlo con un conteggio di gradi quindi facilissimo allora uno dice vabbè allora anche per l'altro problema dei cicli Hamiltoniani magari c'è un trucco di questo genere no il problema dei cicli Hamiltoniani è quello di identificare quindi se esiste almeno un ciclo che tocca tutti i vertici questa è una formulazione la formazione più semplice che è una formazione diciamo geografica del problema dei cicli Hamiltoniani è dato un insieme di punti ipotizzando che siano tutti collegati a tutti quindi ci immaginiamo un grafo completo i cui vertici siano a quei punti creare un cammino di lunghezza minima che li tocchi tutti ho detto lunghezza non peso perché molto spesso questi problemi sono mappati su coordinate geografiche o diciamo così coordinate cartesiane reali quindi quello che conta è veramente la lunghezza dei segmenti le distanze di questi punti questi punti hanno ogni arco avrà un peso che è dato dalla distanza euclidea tra i due punti che corrispondono ai due vertici corrispondenti allora quando possiamo fare l'ipotesi che il problema del ciclo Hamiltoniano sia un problema diciamo euclideo in cui gli ai pesi siano corrispondenti alla distanza possiamo usare degli algoritmi semplificati di fatto che usino la disuguaglianza triangolare cioè se io ho tre punti ABC il percorso diretto da AC è sempre più breve che non fare AB e BC se queste sono distanze in uno spazio euclideo se invece fossero pesi arbitrari non è detto quindi ci sono algoritmi che funzionano solamente sotto l'ipotesi che i pesi soddisfino o che siano effettive coordinate oppure quantomeno soddisfino la disuguaglianza triangolare cioè il peso di qualunque arco è minore della somma dei due pesi degli archi che fanno ponte ABC allora alcuni algoritmi funzionano solamente in queste ipotesi altri invece funzionano in ipotesi più generale e ovviamente saranno più complessi ma nessuno di questi nessuno ha ancora trovato al mondo una soluzione efficiente cioè una soluzione che abbia complessità polinomiale per questo problema anche semplificandolo nel caso Euclideo è uno dei problemi principali che sono 4-5 problemi cardine della informatica teorica che sono tra l'altro tutti riconducibili l'uno all'altro che sono quelli che mettono una barriera alla complessità di cui non c'è scritto che il problema non ha nessuna soluzione efficiente che non si può risolvere in modo efficiente c'è scritto che non si conosce nessuna soluzione efficiente ma non si è neanche stati capaci finora a dimostrare che non esistono soluzioni efficienti cioè un lower bound a questa complessità non c'è semplicemente finora negli ultimi 50 anni di informatica nessuno è riuscito a trovare una soluzione che non fosse esponenziale come complessità ma nessuno è riuscito a dimostrare che non esiste una soluzione polinomiale c'è tutta una grande fascia di problemi che si trova in questa fascia in questa situazione di cui non si conoscono soluzioni polinomiali ma non si ha dimostrato mai che non possono esistere questo è forse il problema principale dell'informatica teorica dimostrare in soldoni si chiama P uguale a NP punto di domanda cioè l'insieme dei problemi che sono risolubili con una complessità polinomiale è uguale all'insieme dei problemi che sono risolubili con delle complessità anche non polinomiali quindi esponenziali nessuno sa se questi due insiemi sono diversi o no sembra che ci siano dei problemi inattaccabili ma nessuno ha ancora dimostrato che debba essere così e questo però a noi crea di fatto la scusate qui la slide è un po' partita ci crea un problema metodologico perché quando dovessimo veramente risolvere questo problema sappiamo già che andiamo di fronte a una complessità algoritmica molto forte e quindi la soluzione tipica è vado giù ricorsivamente sapendo che ho una complessità che è esponenziale o fattoriale o giù di lì già abbiamo visto all'inizio della ricorsione che cosa vuol dire quali sono le conseguenze sul tempo di elaborazione e infatti sono nate poi una serie di algoritmi approssimati per cercare di risolvere o quantomeno di approssimare la soluzione conoscendo qualche cosa in più del problema quindi in questa pagina qua di cui ho messo il link che è documentazione all'interno di la classe del package di interfaccia c'è un'interfaccia che si chiama Hamiltonian Cycle Algorithm che ha una serie di implementazioni possibili implementazioni le quali usano ovviamente algoritmi diversi sono applicabili o preferibili in casi diversi ad esempio ci sono tre classi che ti danno una soluzione approssimata dicono guarda io il cammino migliore cioè quello di peso minimo non lo so trovare però ti garantisco in un tempo accettabile di trovare una soluzione decente ad esempio questo qua dice 2approxmetric dice 2approximation algoritmi che il cammino che mi fornisce non è quello minimo ma mi garantisce che non sia più lungo del doppio di quello minimo quindi se il cammino minimo veramente fosse di 100 km lui me ne trova uno che è minore di 200 però me lo trova quindi meglio che niente se vogliamo questo lo fa purché gli archi soddisfino la disuguaglianza triangolare perché altrimenti potrebbe esserci un arco che lui non usa invece cambia radicalmente il peso ma me lo fa fare in una complessità che è meno di v al cubo di quadro log v quindi un algoritmo tutto sommato poco più che quadratico mi dà un risultato poco più che il doppio può essere un punto di partenza oppure l'altro è questo qua dei tre mezzi questo qui fa un pochino meglio perché dice è un'approssimazione a tre mezzi quindi non è il doppio ma è un 50% in più quindi se il vero minimo fosse 100 km lui mi fornisce una soluzione che è minore di 150 meglio io lo pago ovviamente con una complessità maggiore v cubo per e dove potrebbe essere v quadro quindi siamo intorno a v alla quinta come complessità però abbiamo un 50% di guadagno potenziale sulla bontà del cammino che calcolo ovviamente l'ipotesi bisogna sempre fare attenzione quando ci sono queste cose all'ipotesi che la giangolianza triangolare sia soddisfatta che ci sono i pesi tutti positivi non negativi e in più il grafo deve essere pesato ovviamente non orientato quindi il costo per andare il costo per tornare deve essere uguale e completo cioè devono essere tutti gli archi possibili cosa che invece è un vincolo che non sempre è facile soddisfare cioè se io volo con l'elicottero sì ma se io volo con l'auto non è detto che da qualunque città si possa arrivare direttamente a qualunque altra città oppure se sì sappiamo che in realtà parlo di passaggi intermedi che non conto e non faccio vedere l'algoritmo quindi questa completezza qua è quello che un pochino c'è da pagare per poter applicare questo algoritmo un altro tuo opto-uristic invece dov'è? questo qui dice io ti do una soluzione non ti dico quanto può essere peggiore ti do una soluzione lui che cosa fa? il tuo opto essenzialmente lui prima si costruisce un cammino qualunque e poi prova a scambiare tra di loro due città scambio a due a due e vado a vedere se questo scambio è vantaggioso lo tengo se no lo dimentico e iterò finché riesco a fare scambi vantaggiosi prova a fare tutte le possibili scambi di due città tra l'arco ii più 1 e jj più 1 dice vabbè allora quando arrivo a questa città anziché andare nell'i più 1 vado nella j più 1 e dalla j anziché andare a j più 1 vado all'i più 1 le scambio quindi incrocio il percorso e magari l'arco sto sostituendo l'arco la coppia di archi i più 1 j j più 1 che hanno dei pesi con la coppia di archi i j più 1 j i più 1 che hanno altri pesi perché sono gli archi messi così a x li ho visualizzati così dritti e così a x ma in realtà chissà come sono messi se la somma dei pesi dei due archi che sostituisco è minore della somma dei pesi dei due archi che ho sostituito conviene fare questo scambio e va avanti così ovviamente si fermerà a un certo punto in cui non riesce a fare ulteriori miglioramenti usando questa tecnica del doppio scambio si ferma quanto è buona la soluzione che mi restituisce quando si ferma nessuno lo sa nessuno può saperlo sicuramente non è peggiore della della soluzione di partenza ma anche questo direi che a occhio e croce richiede che il grafo sia completo anche se non riesco a vedere dove è scritto no non c'è scritto però per poter fare lo scambio a due deve avere tutti gli archi possibili immaginabili da scambiare e questi sono esempi di algoritmi con tempo di esecuzione ragionevole approssimati oppure quest'altro dice ah questa è una ti dà una soluzione completa Palmer cosa mi dice questo? mi dice può calcolare la cicla miltoniana nei grafi che soddisfino la condizione di Orr questo qua non l'abbiamo mai conosciuto prima che ora ha dato una condizione sufficiente affinché il grafo possa essere unimogliano praticamente dicendo che un grafo in cui ci siano un numero sufficiente di archi cioè abbastanza denso per forza dovrà contenere un ciclo miltoniano quindi mi dà una numero un lower bound sulla densità in qualche modo del grafo quindi insomma vabbè poi qui si definisce la proprietà quindi sui grafi che hanno questa proprietà qui e poi bisogna capire se nel nostro problema c'è questa proprietà o no perché non è che ce la possiamo inventare allora mi ritorna un ciclo miltoniano cioè non un'approssimazione proprio lui quindi tutti i vertici peso minimo e lavora in tempo quadratico però deve essere vera questa proprietà qua considera la somma dei gradi di coppie di vertici non adiacenti quindi io prendo due vertici non adiacenti che non hanno un arco tra di loro calcolo i gradi quindi il numero di archi adiacenti nel primo incidenti nel primo nel secondo se ogni coppia di vertici non adiacenti tra di loro ha la somma dei gradi che è almeno uguale al numero totale di vertici nel grafo il grafo è miltoniano cioè mi dice io ho due vertici loro non sono collegati ok però sia l'uno che l'altro vertici hanno talmente tanti archi che la somma dei due archi degli archi dell'uno e dell'altro è maggiore il numero di vertici del grafo è una sorta di condizione per dire non rimango bloccato in quel vertice lì per andare da questo a quell'altro sono sicuro di avere altre strade perché loro sono talmente tanto ben connessi che non rischierò di rimanere bloccato adesso non è ovviamente questa frase non è una dimostrazione ma neanche lontanamente quindi nel caso in cui l'arco abbia numero sufficiente e sono tanti però stiamo dicendo che i vertici non connessi hanno un numero di archi che è circa ciascuno dei quali deve essere la metà del vertice quindi vuol dire che è una densità del 50% del grafo poi non basta calcare la densità bisogna verificare questa condizione in modo puntuale però siamo parlando di grafi parecchio densi in questo caso però si applica quindi adesso J-Craft T ha implementato questo però se andate a prendere diciamo così le riviste di algoritmica trovate tantissimi algoritmi che si applicano in casi particolari e gli danno magari la soluzione esatta in un caso particolare e poi questo qui se non so far di meglio mi fanno già mi da già la soluzione una soluzione ritorna un tour ottimale di costo minimo Hamiltoniano l'implementazione vabbè richiede solamente che il grafo abbia almeno un vertice quindi in realtà non mi da nessuna condizione in più sul grafo e mi dice va bene purché tu sia disposto a pagare una complessità di 2 elevato v per v al seconda e qui è esponenziale ma già lo sapevamo questo e in più devi avere anche una buona quantità di memoria da parte questo non è un algoritmo ricorsivo brutale ma è un algoritmo di programmazione dinamica forse avete fatto qualcosa di ricerca operativo sulla programmazione dinamica forse no non lo so essenzialmente paragonando un algoritmo ricorsivo un algoritmo di programmazione dinamica man mano che scende diciamo così nella ricorsione o che esplora le alternative si salva i risultati parziali per evitare di ricalcolare o di rivisitare di nuovo le stesse cose che avevo già trovato prima quindi riesci a tagliare abbastanza il numero di alternative che valuta perché si salva i risultati dei sottoproblemi che hai già incontrato e quindi man mano che scendo vado a scendere solamente ad esplorare zone che non ho ancora visto se mi accorgo di entrare in una zona che ho già visto ho già pronta la soluzione posso riusarla o almeno in parte e questo è ciò che fa scendere la complessità scendere per modo di dire da v fattoriale cioè il numero di tutte le possibili permutazioni dei vertici a 2 alla v che è brutto ma un po' meno brutto dell'altro questo se ci serve o se v è piccolo possiamo benissimo usare questo e ci dà il risultato esatto se v non è piccolo ma il grafo ha quella condizione di or possiamo usare questo altrimenti ci dobbiamo contentare di questi algoritmi approssimati che ovviamente hanno ad esempio quello dei tre mezzi ha una serie di condizioni aggiuntive che non è detto che noi nel nostro caso abbiamo applicato adesso in questa libreria ci sono implementati questi cinque algoritmi ce ne sono come dicevo decine di altri e poi c'è sempre l'algoritmo ultimo che è quello che ci implementiamo noi cioè la ricorsione semplice sapendo però qual è il vincolo vabbè no questo qua era semplicemente la definizione matematica del problema risolto da questo forse se dovessi suggerire da dove partire io partirei da questo qua dell'approssimazione doppia perché soprattutto non mi richiede nulla in più sul grafo non mi richiede né che sia completo né assumi l'unico vincolo che mi dà è la disuguaglianza triangolare che sia soddisfatta però in molti problemi reali lo è già per la natura del problema ecco questo magari spendiamo una parola in più su come funziona ce lo dice qua in una riga ritorna un ordinamento in profondità del minimum spending tree lo spending tree è un altro problema algoritmo che sui grafi che noi non abbiamo diciamo così non siamo entrati lo spending tree è l'albero di visita ok quindi immaginate di fare una visita in profondità partendo da una radice e trovate l'albero che visita tutti i vertici questo l'abbiamo già fatto non ci siamo chiesti il minimum spending tree è trovare l'albero di visita di peso minimo quindi che visita tutti i vertici raggiungibili come un albero di visita deve fare ma che abbia peso minimo quindi tra tutte le possibili visite in profondità quando facciamo visita in profondità devo scegliere se vado prima a destra o vado prima a sinistra trovare quello minimo allora esistono gli algoritmi di tempo polinomiale che mi calcolano lo spending tree di peso minimo però è un tree non è un ciclo è un albero che quanto di più lontano da un ciclo possa esistere allora questo algoritmo ciò che fa è calcolo il minimum spending tree e da qui salta fuori b al quadrato e poi lo connette tu prendi va bene io ho un albero allora parto dal vertice seguo un ramo dell'albero e arrivo fino in fondo e decido che questo fa parte del mio cammino quando sono arrivato in fondo mi ricollego a un altro vertice che fosse presente in precedenza nell'albero di visita non posso farlo sempre devo essere sicuro che ci sia un arco che mi ricollega quindi devo scegliere il punto giusto in cui interrompo e mi sono indietro però di fatto cosa faccio? uso questo spending tree che ha già una proprietà minimale per darmi dei segmenti di percorso un pochino minimizzati e poi cerco di collegarli tra di loro per fare un percorso unico e quindi finché scendo lungo i percorsi va bene perché sto facendo delle cose che sono già state minimizzate quando passo salto da un percorso all'altro faccio un salto al buio a caso ok? quindi potrei avere un percorso perfettamente ottimizzato poi faccio un salto in cui spreco tantissimo perché vado in un punto molto lontano e poi lì mi muovo bene poi faccio un altro salto lunghissimo eccetera allora quel fattore 2 è questo limite qua è ciò che peso nel fare i salti incontrollati essenzialmente non minimizzati e quindi chiaramente facendo questi salti so di attraversare archi che molto probabilmente non fanno parte del percorso minimo ma ho un limite superiore al numero e alla lunghezza di questi archi e questa è l'idea di come funziona dal punto di vista dell'interfaccia sono tutti equivalenti nel senso che alla fine anche se internamente come dicevamo funziona in modo diverso hanno un metodo gettour che mi istituisce un graph path a livello di libreria quindi passo il grafo e mi istituisce un cammino graph path è una classe che tra l'altro se vogliamo nei nostri nei nostri algoritmi possiamo anche usarla anziché restituire semplicemente o costruire semplicemente una lista di vertici una lista di archi come avevamo fatto possiamo usare questa questa classe graph path che ha già essenzialmente ciò che ci serve e quindi è già possibile aggiungere o cancellare ma soprattutto interrogare la lunghezza ottenere i vertici ottenere gli archi già sotto forma di lista facilmente visitabile ok io non su questo non farei un esercizio nel senso che ce lo ritroviamo poi più avanti quando facciamo esercizi sui temi d'esame alcuni problemi sui grafi richiedono essenzialmente di trovare un ciclo quindi lo facciamo poi direttamente applicato a un problema che è un pochino più complesso ricordiamoci solo che appunto ecco questa è una differenza rispetto agli scorsi anni mentre negli anni passati praticamente la libreria JGraphT offriva molto poco in termini di calcolo dei cicli in questa versione con cui stiamo lavorando adesso effettivamente c'è tutte queste opzioni quindi prima di metterci effettivamente a testa bassa e implementare un algoritmo ricorsivo vediamo se non possiamo usare direttamente uno di questi anche se il risultato non è quello ottimo ok io oggi mi fermo qua tra un poco verrà Alberto e faremo un altro esercizio sulle simulazioni il prossimo laboratorio è ancora sui grafi da quello successivo ci saranno le simulazioni ecco ne approfitto che non sono per una volta in ritardissimo per darvi due per ricordarvi due cose relativamente al laboratorio la prima è che le ultime tre esercitazioni saranno metà tempo ok se vi ricordate ah non ho scritto qua scusate perché non ho ancora inserito le date le ultime tre esercizazioni in laboratorio non faremo le sei ore ma faremo solamente tre ore in queste esercizazioni sicuramente nelle ultime due non sono sicuro di riuscire a farlo nella terza vi proporremo degli esercizi simili all'esame quindi non li pubblichiamo prima vi diamo diciamo così il testo come se fosse un testo d'esame abbiamo le tre ore l'esame durerà due quindi in qualche modo potete misurarvi su come siete pronti per affrontare la prova d'esame in queste sicuramente nelle ultime esercitazioni che sono quelle simulazioni d'esame diciamo ma già anche da domani quello che vi consiglio di fare è usare i computer del laboratorio perché almeno cominciate a vedere dove è Eclipse dove è SimBuilder qual è la password come faccio ad attivare il database eccetera eccetera ok molti di voi lavorano va benissimo con il paper portatile però visto che l'esame è sul computer del laboratorio le ultime due settimane sarà obbligatorio cioè non vi facciamo usare il portatile ma cominciate già da subito così vi abituate a caricarvi il progetto eccetera eccetera su quei computer e scopriamo anche se ci fosse qualche computer che è installato male lo sistemiamo in tempo e non lo scopriamo al giorno dell'esame ok allora vi lascio un po' di pausa prima dell'ora successiva